Facciamo anche un gioco. Vi ho detto se è buono di ricordare quali sono i cinque momenti fondamentali che formano la nostra giornata. A. La gulizione, la miranda, il giringel, l'aperitivo e la cena. B. La scuola, giocare con i amici, parecchia la tavola, scoltà un econte e l'ha a dormì? C. La buonore, il misdi, il dopo misdi, la sere e la gnot? La risposta è giusta. E' la lettera C. La nostra giornata è formata di questi cinque momenti. La buonore, il misdi, il dopo misdi, la sere e la gnot. Veviso induvinat! Braas!